Oh, Croc, che brutta cosa è l'età e la stanchezza, lastre, controlli e tac, ma che tristezza. Guardali un po', quanta tenerezza, ah, ascolta che splendida idea, ascolta che splendida idea, diamo il mio elisir, si, hai un net, tre sei cento per tre, e vedrai che effetti dopo sembreranno allegri scolaretti. Tu fidati solo di me e mi ringrazierai, non lo sai, con me non si sbaglia mai, così li conquisterai, farai un figurone, voilà, adesso sono qua, rientro in società, perché mi sento a mille, a mille, a mille, a mille. Per la vita, perché mi sento a mille, a mille, a mille, a mille... Grazie a tutti. Grazie a tutti.